ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video prima di parlare dell'argomento di oggi vi informo e vi ricordo che sono presente da poco su telegram all'indirizzo che vi metto in descrizione e che poi in pratica è tutto sugli operatori mobili in descrizione trovate anche il link per accedere al mio canale instagram che è giuseppe trattino basso operatori trattino basso mobili e anche all'indirizzo mail operatori punto mobili chiocciolatiscali punto it l'argomento di oggi è un argomento che abbiamo già trattato qualche tempo fa ed è l'operatore coppo voce coppo voce è un full mv no cioè significa che ha una sua struttura indipendente una sua core network per gestire tutte le sim collegate al all'operatore quindi è totalmente indipendente dalla rete in questo caso team dove sfrutta solo esclusivamente le antenne vi parlo di questo operatore perché è un operatore che va veramente bene per essere un operatore virtuale in corso confronto per esempio a quelli su vodafone ad esempio print rom che va male coppo voce mi avete riscontrato anche voi tantissime volte nelle vostre messaggi che va veramente decisamente bene in tutta italia l'offerta andiamo a vedere tra poco è una nuova offerta di certo ci sono di più economiche però vi posso garantire che questo è un operatore che va davvero davvero bene quindi io un pensierino ce lo farei andiamo a vedere ecco la tariffa top 50 50 giga in 4g minuti illimitati e 1000 sms a 10 euro al mese vi ricordo che coppo voce è l'unico operatore che in europa in web quindi a 50 giga mantenuti anche in roaming europeo bene abbiamo visto la tariffa di 50 giga questi 50 giga sono validi anche in europa in unione europea quindi uscendo dall'italia si continua a scalare questi 50 giga mensili io direi che un pensierino c'è da farcelo perché anche se costa 10 euro superiore agli altri comunque è un operatore che vi garantisce delle buone prestazioni questo me l'avete detto voi più volte io vi ringrazio per l'attenzione vi chiedo di iscrivervi al canale coloro non l'aveste fatto cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei miei nuovi video e mettete per piacere tanti di like ai miei video vi ringrazio vi abbraccio un saluto da giuseppe